ciao a tutti ragazzi sono luca red e benvenuti in questo nuovo video questo video è il secondo video del canale ieri ho fatto uscire il primo e questo oggi vi dirò le mie rose del fanta calcio perché sì io ho tre leghe in tutte e tre le leghe usiamo fanta master io e i miei amici nella prima sono nono su 10 su 10 siamo 10 partecipanti e sono nono ma è una gioia e i miei giocatori sono come portieri buffon andanovic e radu come difensori buonucci caldara hattemur mario lui luca pellegrini e radu e nell'asta di riparazione ho preso carstorp che l'ho preso al posto di colorov e rugani al posto di d'ambrosio a centrocampo ho baccaioco bernardeschi chiesa fabiano ruiz luiz alberto villiard zagnolo e alla e ho preso pereira all'asta di riparazione al posto di lobotka in attacco ho che tabalde la padula leao petania riberi e poi ho preso destro al posto di cutrone poi in un'altra lega sono secondo su ottavo e ho in porta musso perin e stracoscio in difesa ho chiellini devrai teo hernandez itzo culibali e romero dell'atalanta e poi all'asta di riparazione ho preso anzaldi che è stato german pezzella della fiorentina e faraoni che l'ho preso al posto di luca pellegrini a centrocampo ho deron lucas leiva lorenzo pellegrini e poi ho preso nandez che è apposta di pasalic come trequartisti perché qui giochiamo anche quei trequartisti ho preso rebic politano e poi zagnolo al posto di breim diaz e messias al posto di deolofeu in attacco ho nestorovski kalinic defrel gecko cr7 e borca majoral al posto di pinamonti e andiamo all'ultimo all'ultima lega dove sono sesto su nove e qua mirante paolo pez e poi preso sportiello al posto di scuffetta poi difensori calabria dell'it di lorenzo glick gossens itz spinazzola e zappa costa e poi a centrocampo o amarabat bonaventura castrovilli diavara fabian de ruiz tonali bere tu e pobega al posto di cronici che l'ho scambiato con uno della lega e poi in attacco caputo lozzano ilic orsolini simeone e poi ho preso palazzo che l'ho preso al posto di lamers e che dire ragazzi da luca red è tutto noi ci vediamo a un prossimo video ciao